Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. La strassigna è l'allacciamento per la 1 in direzione Firenze, con code in uscita alla strassigna. Inaugurata oggi ad Empoli, la nuova strada che collegherà lo svincolo della FIPILI di Empoli Est a via Piovola e il Polo Tecnologico. A Firenze, in via Borghini, fino al 29 novembre, divieti di sosta e restringimento di carreggiata all'angolo con Piazza delle Cure. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze e Comune di Firenze.